ciao a tutti amici dello scorpione benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami scorpione tendenze energetiche affettive per la prima parte di giugno 2022 wow abbiamo la ruota della fortuna amici dello scorpione cambi in vista la ruota della fortuna parla di qualche avvenimento improvviso inaspettato che comunque porta dei cambiamenti positivi per qualcuno potrebbe fare riferimento ad una vincita ad un aiuto dall'esterno ad un dono divino o a qualche ciclo che si chiude per dare l'inizio ad un nuovo ciclo andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi che cosa vi vogliono dire intanto vi ricordo che sono letture generali prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente segno lunare e in descrizione trovate un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi visto che questo tipo di lettura è per guardare le tendenze energetiche affettive generali quindi le relazioni a 360 gradi familiari romantiche di amicizia e di lavoro vi consiglio di rimanere fino alla fine del video perché introdurrò dei messaggi specifici per i single per le persone che sono in una relazione diciamo stabile e per quelle persone che invece hanno una relazione che può essere a distanza piuttosto che in separazione in questo momento oppure clandestina molto bene allora abbiamo un 8 di spade al contrario un 6 di coppe un 2 di spade un fante di coppe un 7 di coppe un 10 di pentacoli al contrario la carta della forza al contrario e concludiamo con un 8 di coppe e un asso di bastoni entrambe al contrario allora questa ruota della fortuna qui probabilmente porterà quello che uno schierirsi delle idee ok perché qui sento che c'è con questo 8 di spade una sorta di gabbia mentale me la me la da anche un po il 2 di spade questa questa energia è come se qualcuno di voi fosse davanti a un bivio c'è un 6 di coppe in mezzo quindi sento che è una scelta per molte persone potrebbe riguardare o dei figli o dei fratelli mi mi parlano di fratelli in realtà però se di coppe anche riferito ai figli molte volte e infatti abbiamo anche un fante di coppe che potrebbe essere un fratello più giovane un figlio per qualcuno magari rappresenta la persona di interesse con il 7 di coppe si parla di quelle che potrebbero essere le vostre proiezioni inerenti magari ad un nucleo familiare o inerenti a questa persona nucleo familiare perché il 10 di di pentacoli comunque mi parla di famiglia mi parla di unione mi parla di gruppo quindi il 7 di coppe potrebbe fare riferimento appunto a quello che è la vostra idea o le vostre aspettative in realtà molte volte parla di possibilità e molte altre parla di illusioni andremo poi dopo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta terminiamo con altre tre carte al contrario e qui sento che manca un po il coraggio di fare un certo tipo di percorso manca il coraggio di allontanarsi per certi versi l'asso di bastoni è un nuovo inizio qui manca il coraggio avete un 10 qui che parla di chiusura di ciclo la carta che regge la stesa è un numero 10 la ruota della fortuna c'è il bisogno di uscire da qualche tipo di ciclo magari carmico visto che comunque abbiamo anche un 6 di coppe e di affrontare questo nuovo inizio sento che per molte persone c'è una sorta di come vi posso ingenui ingenuità in quello che potrebbe essere tutto questo tipo di percorso perché il fante di spade scusate il fante di coppe per voi non rappresenta nessuno in particolare potrebbe rappresentare il vostro atteggiamento quindi di una persona in questo caso che fa fatica anche un po entusiasmarsi nel senso che ci sono tante cose a cui pensare tante possibilità mi verrebbe da dire ok allora andiamo a vedere con i mini tarocchi spiegatemi lotto di spade per piacere grazie allora lotto di spade spiegato da un 5 di coppe e da un 9 di coppe credo che qualcuno stia cercando di auto convincersi ok che che comunque al di là di tutto sia tutto quello che si vuole perché comunque c'è un 9 di coppe che parla di sogno compiuto anche se comunque queste due carte proprio parlano fortemente di sensi di colpa o qualcuno è in qualche modo pentito di aver perseguito il suo sogno perché in effetti il 6 di coppe parla anche di sogni ok oppure è proprio una se mi parlano di vittimismo può essere un'energia che intorno a voi e non necessariamente la vostra devo vedere questo 6 di coppe abbiamo un 3 di coppe e un altro 6 di coppe qui potrebbe essere che si parli anche di riconciliazione per qualcuno perché se dico ha un forte riferimento al passato è come se ci fosse una riconciliazione verso giugno con una persona del passato con un fratello potrebbe essere un amico potrebbe essere potrebbe essere anche un vostro il vostro bambino interiore per certi versi non lo sento per molti sinceramente è più facile che ci sia qualcuno del passato con il quale o la quale vi incontriate insomma che abbiate un incontro andiamo a vedere questo 2 di spade a che cosa si riferisce imperatrice al contrario la temperanza e 6 di spade al contrario io credo che qui ci sia qualcuno che non sia ancora lasciato indietro determinate cose del passato e difatti qui abbiamo quello che sono i pesi se vogliamo i sensi di colpa no come dicevo prima c'è questa carta della temperanza qui c'è bisogno di guarire c'è bisogno di pulire fondamentalmente da quello che è il senso di colpa che si provava bisogna pulire da quelle che sono le aspettative che provavano gli altri nei nostri confronti sento che questo 2 di spade con questa band sugli occhi impedisce di vedere quello che è realmente il vostro potere personale avete anche l'imperatrice al contrario quindi in qualche modo se fa riferimento dei figli tipo se per voi questo fante di coppia facesse riferimento ai figli l'imperatrice per qualcuno potrebbe esprimere un concetto di di madre figlio nel senso di quanto faccio la mamma quanto faccio l'amica andiamo a vedere il fante di spade per piacere grazie abbiamo uh la la allora abbiamo un re di bastoni in 10 di coppe e il fante di coppe un'altra volta al contrario qui si visto che qui si parlava di passato di nuovo potrebbe essere che si stia aspettando delle scuse da parte di qualcuno comunque ci sia questa attesa se vogliamo di riconciliazione c'è voglia di far tornare un po tutto come prima no andiamo a vedere questo 7 di coppe per piacere abbiamo un cavaliere di coppe e la morte io sì credo che qui si tratti di capire perché il cavaliere di coppe normalmente rappresenta l'innamorato ragazzi quindi nel caso non abbiate nessuno potrebbe tranquillamente essere una persona nuova assolutamente nuova o un completo cambio da parte di questa persona che ritorna dal passato come se ritornasse completamente trasformata con questa morte io sento di più che una persona nuova però scrivetemi poi sui commenti se il risuono c'è voglia di questo compimento c'è voglia di questo 10 di coppe andiamo avanti andiamo a vedere che cosa questo 10 di denari per piacere grazie diamanti diamanti al contrario e il matto carta numero 10 carta numero 0 ruota la fortuna che è un 10 metà giugno io credo che qui ci sarà quello che è il cambio di cui parla la ruota della fortuna gli amanti mi parlano di una scelta che si deve fare probabilmente quel distacco che vi dicevo che qualcuno sta meditando di fare dalla famiglia per partire per nuove avventure fondamentalmente ok sento che potrebbe anche parlare per certi versi di una di un disequilibrio in quello che è l'ambiente familiare verso metà giugno per qualcuno e la carta del matto mi potrebbe dire che per impulsività andiamo a vedere la forza per piacere grazie allora abbiamo un tre di bastoni e la carta del giudizio al contrario una carta per l'otto di coppa e una carta per l'asso di bastoni per piacere sì avete la carta del giudizio al contrario è come se qualcuno qui allora per certi versi può darsi che stiate aspettando la chiamata di qualcuno del passato magari sarà potrebbe essere che quali incontri a te perché comunque c'è un incontro di tipo fisico mentre qui stiate aspettando che la persona richiami c'è voglia di fare qualche cosa con questa persona ma sento che a molti manca il coraggio di farsi avanti manca il coraggio di esprimersi di fatti qui l'asso di bastoni poi è al contrario quindi non c'è una reale azione ok in quello che è il il movimento di questo periodo più che tutto con questo sette di bastoni potrebbe essere che qualcuno si stia difendendo magari proprio da questa persona del passato ok però io vi dico qui potrebbe essere come vi dicevo prima quello che è una disarmonia oppure il fatto che si debba effettuare una scelta e anche se ce l'avete al contrario però comunque la carta del giudizio è presente nella vostra lettura quindi c'è aria di risveglio c'è aria di cambio c'è aria di cambio di prospettiva mi verrebbe da dire non è ancora qualche cosa di concreto e più qualche cosa che sento nell'aria per molte persone perché comunque le carte la carta dell'otto di coppe che la carta di movimento e al contrario ok quindi non è che ci sia tutto questo questo movimento ma è più una cosa che sento da parte vostra è comunque avendo anche sette di bastoni sento che siete impegnati a difendervi sì c'è c'è anche la carta del sole qui c'è bisogno di proteggersi fondamentalmente qualcuno si deve proteggere probabilmente da questa energia del passato che torna o magari è questa energia nuova che sta entrando perché avendo comunque la carta del matto può essere che sia un'energia impulsiva anche ok bene andiamo a vedere qualche messaggio in più per i single wow un'altra volta la carta del sole era già uscita qui abbiamo la carta dell'eremita che è un po la stessa energia del lotto di coppe abbiamo la carta della temperanza che era uscita qui e 10 di denari che è uscito qui bene quindi cari amici single in realtà voi avete ben tre arcani maggiori su quattro carte estratte quindi direi che il movimento è piuttosto intenso in questo periodo ma si va verso un movimento interiore per molte persone sento che è una guarigione proprio del bambino interiore abbiamo l'eremita che parla di scavare parla di fare introspezione parla di quello che è la ricerca della propria verità e avendo comunque anche la temperanza due volte sento che molte persone guariscono questo tipo di anche solitudine che sentono probabilmente no la temperanza è raffigurata con un angelo quindi per certi versi c'è qualcuno che vi guidano ricordo che la ruota è anche associata alla ruota del destino verso quello che un 10 di denari ok se qui nella lettura diciamo generale era capovolto qui ce l'abbiamo dritto quindi per voi si prospetta quello che è un periodo di appagamento un periodo di compimento un 10 10 ok quindi verso giugno io sento che diciamo nella prima parte di giugno e riuscirete a prendere consapevolezza a guarire certi tipi di ferite vecchie per riuscire a trovare una vostra stabilità una vostra concretezza anche una vostra pace a livello familiare a livello di coppia perché vi ricordo che comunque qui c'è un cavaliere di coppe quindi potrebbe essere una persona nuova che entra non deve necessariamente essere qualcuno del passato ok anche perché io sento che sono due persone diverse ok andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile qualche consiglio qualche carta per le persone dello scorpione che sono in una relazione stabile carro bene è un arcano maggiore una carta di movimento abbiamo un 9 di coppe fantastico era già uscito anche qui 9 di coppe parla di un appagamento da un punto di vista emotivo ok poi abbiamo l'imperatore e un asso di spade quindi qui si tratta di andare verso la vostra stabilità guardate sono carte molto belle perché il 9 di coppe parla del sogno compiuto il carro parla di qualche scelta che è stata fatta con successo parla di movimento vi dicevo potrebbe rappresentare un viaggio potrebbe rappresentare anche un trasloco il comprare una macchina per esempio è un progetto che va avanti è un progetto che è in movimento veloce e abbiamo anche la carta del sogno compiuto quindi sento che siete proprio nel pieno appagamento state bene fondamentalmente l'imperatore parla di stabilità probabilmente qualcuno è anche un po mi verrebbe da dire incastrato in certe in certe regole per una questione di denaro tipo che bisogna fare attenzione a quello che si spende perché il denaro che entra è quello no e quindi qui sento che c'è un taglio a qualche cosa che non serve più può essere anche un taglio da un punto di vista di un atteggiamento normalmente la soddisfare parla di qualche conversazione chiarificatrice parla di quello che è una chiarezza mentale o qualche cosa che si taglia e di conseguenza poi si crea questa chiarezza mentale quindi qui sento che si tratta di probabilmente limare qualche qualche spigolo tra di voi per questione pratiche proprio e che potrebbero essere legate ai soldi perché comunque l'imperatore mi parla di stabilità e potere materiale ma potrebbe anche essere semplicemente magari parte della rigidità caratteriale dell'altra persona andiamo a vedere qualche carta per le persone che sono in separazione o in qualche relazione clandestina o a distanza sono uscite tante 15 le prendiamo 10 di spade le stelle l'appeso il quadro di spade il cavaliere di spade e non male allora qui alla base c'è quello che è una sofferenza con i 10 di spade ok sento che per molte persone si tratta di vederci chiaro mi verrebbe da dire la stella comunque una carta che parla di guarigione parla comunque di quello che è un desiderio e un sogno ce l'avevamo anche qui il sogno me lo ricordo ce l'avevamo con i 6 di coppe quindi c'è qualcuno che sta sognando qualche cosa che vorrebbe qualche cosa ma con la carta dell'appeso a quanto pare le energie sono super bloccate anche perché c'è un quadro di spade c'è una carta di ritiro spirituale è una carta di isolamento un po l'energia dell'eremita che avevano anche i single e fondamentalmente guardate le cose non non si sviluppano in modo fluido anzi diciamo che la carta dell'appeso probabilmente associata anche al 4 di spade vi può dare la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista e agire in modo un determinato un po più intenzionale mi verrebbe da dire oppure questo cavaliere di spade se non è questa intenzione che esprime potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse e sento che per certi versi non potrebbe anche non esserci tutto questo equilibrio che voi magari sognate con la carta delle stelle diciamo che sento che è necessario risolvere questo tipo di sofferenza attraverso il periodo di riposo il periodo di riflessione di cui ci parlano l'appeso e il quadro di spade ok ecco forse bisogna focalizzare un pochettino di più l'obiettivo anche qui il sole mi parlava di bambini interiore anche qui avevate un set di bastoni che parla comunque di difesa di lottare sì diciamo che non ci sono grossi cambiamenti in questo periodo rispetto alla situazione attuale a parte quella del vostro movimento intendo fisici a parte quella del vostro ritiro o cambio di prospettiva o rivalutazione della situazione ok bene ma andiamo a vedere con gli angeli del cuore che altro messaggio c'è io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like con i commenti le condivisioni con le iscrizioni quindi grazie a tutti quanti davvero importante un messaggio ancora per gli amici dello scorpione ok giocosità per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane divertente che è in te che è un po questa energia frizzante di cui ci parla il fante di coppe che probabilmente in questo momento non riuscite bene ad esprimere cari amici dello scorpione questo è quello che avevo per voi spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao